Un clan ridimensionato ma non battuto, per anni i casalesi hanno seminato panico e terrore in terra di lavoro, facendo lo schiaffare in tutto il mondo e spesso inquinando la politica. Oggi sono meno potenti ma non per questo sconfitti, ne è convinto Catello Maresca, sostituto procuratore distrettuale antimafia, che sulla nota organizzazione criminale ha scritto un libro dall'eloquente titolo Male, capitale, la misera ricchezza del clan dei casalesi. Del volume si è discusso nel corso dell'incontro su mafia e corruzione organizzato da Rotaria Vellino. In questi anni ci sono stati tanti arresti, può dirsi sconfitto il clan dei casalesi o comunque ridimensionato? Sicuramente ridimensionato, lo speriamo ma diciamo è un dato di fatto perché gli arresti ma soprattutto direi, il libro documenta anche questo, il fiume di Danari che sono stati sottratti alla criminalità organizzata e ridati alla collettività in termini proprio di soldi liquidi e soprattutto di beni, beni immobili e società, rappresentano un traguardo fondamentale nell'aggressione alla criminalità organizzata ed è evidente che da qui bisogna partire per cercare di mantenere alta l'attenzione perché basta poco per perdere queste posizioni che sono state acquisite, quindi bisogna non sottovalutare, non illudersi di aver raggiunto l'obiettivo finale, non sottovalutare la loro capacità di reagire e di riorganizzarsi. Anche in Irpinia sono presenti alcuni clan, un territorio come il nostro è appetibile per la criminalità organizzata? Territorialmente è troppo vicino a realtà fortemente inquinate per non essere appetibile e peraltro alcune indagini anche recenti dimostrano l'esistenza di gruppi anche qui organizzati e la possibilità che la contiguità territoriale alla provincia di Caserta che è poi quella più devastata da questo fenomeno possa determinare dei seri rischi anche per il territorio irpino che peraltro è un territorio ricco di risorse dove ci sono soldi, la criminalità organizzata si lancia a capofitto anche in maniera più difficile da accertare e da scovare perché qui assai spesso, qui come in altre realtà del territorio, lontane dai paesi originari di queste persone, loro si presentano come imprenditori, come grandi investitori con i soldi che se non si approfondisce possono passare addirittura per essere puliti.